L'annuncio arriva a sorpresa a poco più di un mese dall'inizio della nuova stagione di tale quale show, la prima dopo il covid-19, al via il 18 settembre in prima serata su Rai 1. A farlo è Carlo Conti, che attraverso il suo profilo Instagram rende nota la lista dei 10 VIP, 5 uomini e 5 donne, che in autunno si caleranno nei panni dei cantanti più diversi, al solo scopo di divertire il pubblico e di regalare performance spettacolari. Nonostante i nomi siano eterogenei, è chiaro, come molti di loro, siano particolarmente avvezzi non solo al canto ma anche all'imitazione, come Francesca Manzini, che abbiamo apprezzato in Amici Celebrities, e più recentemente astriscia la notizia nei doppi panni di conduttrice e imitotrice Adonorem di Mara Venier, ma anche di Francesco Paolo Antoni, l'attore napoletano che si è sempre destreggiato tra mille trasformazioni. Si difendono però anche Virginio, il vincitore della decima edizione di Amici, Barbara Cola, già concorrente di Ora o Mai Più nel 2019, Carmen Russo, mangiatrice di parchi, che sicuramente potrebbe proporre esibizioni in danzerecce da pop star, e Julia Sol, cantante attiva soprattutto nei musical. Dall'altra parte c'è sicuramente molta curiosità anche per Luca Ward, alla sua prima esperienza come imitatore, per Sergio Muniz, già vincitore della seconda edizione dell'Isola dei Famosi, e Pago, che da cantante ormai si è reinventato come personaggio televisivo, partecipando anche a Music Farm e più recentemente a Tentational and the Vip, il grande fratello Vip. Chiude il cerchio la conduttrice Caroline Ray, anche lei ha il debutto come imitatrice sul palco. Che ne pensate di questi concorrenti? Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like di supporto.